Nella birreria Voigt di Piazza Solferino, a Torino, alcuni dissidenti della Juventus si fondono con i soci del football club torinese. Nasce così quello che poi sarà il Torino Calcio, la famosa squadra dei Granata. Il primo incontro ufficiale contro la Provercelli alcuni giorni dopo, ma in quel momento la squadra non indossa ancora la classica casacca Granata. I colori sono diversi, sono arancioni neri, un colore che però non piace al presidente onorario della squadra, il Duca d'Abruzzi, perché ricorda i colori degli Asburgo. Decidono così di cambiarlo e di scegliere il colore Granata, che diventerà poi il simbolo, il colore simbolo della squadra.